E vediamo, vediamo Luca Carboni che sta per uscire per un pinefo, un pinefo. Vediamo la tecnica della scaletta, vediamo ancora lui. La nostra mitica grotta, siamo arrivati alla profondità di 11 più 13 e mezzo, 14 e mezzo. L'uomo della caverna, l'un pinefo man, un vero despasiano, vettelo qua, pronto, via. Ah, che bel cesto che è venuta stavolta. In questo buco profondo 4 metri, è venuta stretta, scorreggiata, in un momento in sciocco, non veniva più sull'aria. Era lì che non riusciva più a morsi, visto a me, perché era depositato tutto giù, perché era pesante. Veramente di concertini non ho sentito più di uno là sotto, però va bene. Finché le grotte mi sembra una buca nell'estate. Infatti io, essendo una persona educata, scorreggio solo nei cessi. E siccome questo è un cessio, chiaramente... Eh? Gialla. Ma vedete che la roba non si vede mica, è un griffonio. Guarda se lo vedi. Guarda se lo vedi.